Siamo venuti alle castelle Quattro biglietti e ora entriamo, stiamo entrando e ora saliamo, saliamo, saliamo Ciao a tutti, siamo in Calabria, dove? Alle castelle, noi siamo? Ciao, ciao Papi, mamma, i biglietti te li posso dare a te? Mamma, ci servono, scusa, li dobbiamo dare? Forse no, forse sì, ora vediamo Beh, beh, praticamente, ragazzi, gli adulti pagavano 3 euro e noi piccoli, perché ne siamo piccoli Sì, c'è il mare, guarda che bello l'ultimo, si vede Giulie, guarda la sinistra che ha detto Perché ragazzi, se dovrebbe arrivare sopra e tu dovresti affacciare dall'entrata, quindi dopo voglio vedere, l'entrata è troppo bella, perché tu stai su un ponte, però è un ponte di pietre, tu cammini e stai sulla sabbia, cioè il mare sta in tutte e due le paste Parc'è lo sville? Il profondo troppo bella dopo Ma a cammino giù No, cammino giù Se vuoi? Ho visto un tovo Ed è troppo bella Lo svegli finito Da come, Perche' io an expore Hai visto un tovo Dove? Due Due e allora ho paura di cosa vogliamo qualche fantasma marghi vieni qua te la c'è un topo marghi ho paura paura mamma scappa si no ma qua dove vai vieni qua stai avendo paura ragazzi allora praticamente siamo saliti però non sappiamo come scendere perché sinceramente è un po' ruvida la discesa perché io voglio salire da sopra due sopra uno voglio salire non me ne frega giulia no no giulia si la sopra si salia dai 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 c'è il fantasma cadi papà cadi no papà cadi non arrivare la camera del fantasma la finestra ci sono o che è il fantasma ora lo andiamo a catturare andiamo a catturare a catturare ma non è che il fantasma si ha trovato la figura colpa di guerra colpa di tua che deve fare marghi lei la deve copiare lui sono che è la cosa che può tutto ora o che è il fantasma catturare dove catturare la catturare la catturare la catturare glbagli non in tutto Mamma mia, questo è un passato di fantasma Vai, questa era la mamma Facciate qui queste scale No, però stai a scendere noi Attenzione che ti riti Papà, ti schifo Aiuto Stavano l'acce per dentro Giuliani Come si scende dopo qua? Devi andare così Non ce la faccio Stiamo andando qua Ma dove si scende dopo? Di quelle scale Ancora? L'ultima cosa Forse siamo arrivati Ma che siamo arrivati? Ancora 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 Ancora? Ancora 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 potevano mettere delle spalle più prate sono le 23.45 io voglio comprare il laser il laser va bene fai un annuncio dai se qualcuno la trovate ragazzi se io non la troverò voi cercate chiedete in calabria se state in calabria dove siamo qua? alle castelle chiedete se hanno visto una felpa della boi con il falco bianca con il falco colorato e se la trovate voi per strada vi prego prendetela pure se è una becca bianca vedete cosa c'è sopra si sta giocando come prenderla però vi prego quindi basta e a dopo ciao che state facendo? che gusto l'hai preso Giulia? prego prego cioè abbiamo persa la pinta il piscina un grande e io non prego per dirci vai che grazie a te un po' di raggi che cosa ci piace? Margie fammi vedere, vediamo un po' assaggiate, andiamo un po', andiamo un po'. Come? Il signore era buono. Ma il signore era buono, se adesso è riscaldato. Cosco? Margie si sta valutando, si sta valutando. Giulia? Non si riesce a capire? Uno. Eh? Che potagli diamo? 9. 9. 9. Infinitamente, perché la fame si è stancata. E andiamo dai, andiamo. Andiamo al posto. Anche il treno, capisci? Ciao. Buono. 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 No, non stai a scuola. Buono. Guarda che deve si bere. Guarda che faccio il treno. Guarda che faccio il treno. Sì. No. No. Proprio sfinita. Sì. Sfinita. Tu fai il C sul treno. Ehi, vetti che cosa che mi fai. Va bene, dai. Vediamo fino dopo. Ciao. 3. 2. 1. Go. Quindi ragazzi, questo era il video. Spero se vi è piaciuto. A noi piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram. Marghe Giulia Kawaii-official. Su Facebook Marghe Giulia Kawaii Real. Su Youtube Marghe Giulia Kawaii. E sul secondo canale Maggi.tv. Noi vi mandiamo un bacione per me. E ci vediamo alla prossima. Ciao. Peccato per solo mia felpa. Ciao. Ciao.